Ed eccoci qua nella seconda parte di Res Pubblica, abbiamo appena salutato il Presidente di Sicindustria regionale, Dottore Grevo Gori, buongiorno, se ci consentite questi 20 minuti prima della pausa estiva li dedichiamo un po' a noi, proprio parlando di Telesud e ne parlo assieme al Presidente del gruppo editoriale di Telesud, Massimo Marino, ben ritrovato. Salve Direttore, buonasera a tutti. Beh, apriamo subito le danze con un po' di polemiche che si ripetono ogni anno, non da parte nostra, rispondiamo a quelli che anche quest'anno sicuramente si lamenteranno, ormai lo sappiamo del fatto che dalla settimana prossima Telesud materialmente va in ferie fino a fine agosto. Ogni anno sempre la solita sospa, Presidente. Sì, da lunedì prossimo staccheremo la spina per circa 15 giorni lavorativi e un'abitudine consolidata di Telesud, ma credo in maniera più ampia dal panorama televisivo locale. Tu hai la mia stessa età, insomma non abbiamo 80 anni, ma insomma ci ricordiamo che delle importanti, in realtà è giusto darne merito anche agli editori di quei gruppi, RTC e Telescirocco chiudevano addirittura per tutto il mese di agosto, tutto il mese di agosto. E quindi fa un po' sorridere che poi gente della stessa nostra anagrafica o ancora magari più avanti con l'età stigmatizzano questo. Fra l'altro quando chiudevano tutto il mese non c'era il web, cioè l'informazione veramente quasi collava del tutto perché non c'era il web dove comunque sia le altre testate, compresa delle sud web e attive, comunque posti informazione. Quindi ecco ci sembra insomma un po' speculare, insomma non esattamente. Però questo dimostra l'affetto che gli utenti hanno nei confronti del sud e i numeri delle statistiche dei sondaggi che abbiamo pubblicato. Per la verità insomma chi fa queste critiche non dimostrerebbe proprio tanto affetto. A me sembra invece un po' strumentali di criticare a prescindere, però per carità questo è il mio punto di vista, può essere che hai ragione tu. A me sembra invece che spesso e volentieri e non come diciamo noi, orgogliosamente trapanesi, un giapponese, un giapponese va sempre a criticare, ma è proprio una questione sociologica del genere umano che non è mai contento e debba criticare a prescindere. Fermo Ressandro è comunque nel mese, appunto in questi 15 giorni lavorativi di fermo televisivo perché sul web siamo operativi. Che poi è televisivo redazionale. Redazionale, redazionale anche di palinzesto continua, abbiamo tutta una serie di produzioni in esclusiva tra l'altro da mandare in onda. Dico speriamo di no, lo dico sinceramente non perché non vogliamo lavorare ma perché è meglio che non avvengano queste cose, ma in caso di eventi diciamo brutti come purtroppo altri anni è successo saremo presenti anche con un'edizione straordinaria, ma noi speriamo che tutto vada vicino e che ci siano solo spettacolo, solo serenità, solo domandare in onda. L'altro non dicevi una cosa, tu che sei il direttore ne hai polso ovviamente ancora meglio di me, c'è un aspetto tecnico, intanto gli ascolti crollano da Mediaset, da Canali 5 a Teresù, tutti sono al mare piuttosto che la sera grigliate in campagna, gli ascolti fisiologicamente crollano. Ma soprattutto per un territorio di riferimento come il nostro non è neanche facile trovare notizie ogni giorno per comporre il notiziario, perché sappiamo bene che quasi tutto va in ferie, i tribunali chiudono, le attività politiche non c'è, lo sport sono spesso in ritiro non c'è alcuna cosa, non puoi parlare sempre insomma forse della strada rotta o della mancanza d'acqua, non so dire di servizi, non è semplice produrre, quindi meglio fare questa scelta per fisiologicamente staccare un po' la spina e ripartire con più anche serenità mentale nelle dovute considerazioni. Il corpo redazionale nostro ovviamente non è infinito e quindi bisogna sempre fare i conti con la durezza dei numeri che devono sempre... A proposito di palinsesto, abbiamo un nutrito palinsesto da... vedo qua insomma già le immagini della nostra regia interna con il calcio e non solo, soprattutto siamo ripartiti, noi certamente ma come territorio blandamente siamo ripartiti per quanto riguarda gli eventi di pubblica fruizione, no? Siamo protagonisti ancora una volta noi non solo con il Cuscus Fest ma soprattutto... No, no, ma noi il Cuscus Fest probabilmente, anzi senza probabilmente, oggettivamente è l'apice diciamo territoriale in quanto a eventi che è una delle manifestazioni più importanti d'Italia e quindi ampiamente... Anche se arriva questo Marettimo Film Fest che sta iniziando a farsi ben vedere. Marettimo Film Fest ha avuto un grande eco nazionale, abbiamo visto che hanno parlato tutti, TGR, RAI 2, RAI News, National Geographic, Sky di G24, quindi ha avuto un grande eco di ritorno d'immagine, ma è un evento diverso, ovviamente essendo Marettimo un posto piccolino è normale che si presta di più a un target forse non me ne voglia, non so come circoscrivo, più elevato magari un po' più... D'elite? D'elite mi pare troppo, ma certamente forse un po' più elevato rispetto al livello ultrapopolare che è il Cuscus Fest dove sappiamo bene decine e decine e decine di migliaia di persone al giorno affluiscono a San Vito e quindi è chiaro che sono due cose diverse. Ma io credo, ci credo molto nel Marettimo Italian Film Fest, credo che possa essere un altro fiore all'occhiello diverso ma altrettanto prestigioso nel panorama degli eventi dalle nostre parti. Tu sei anche un ottimo osservatore, un ottimo lettore della realtà, vedi sicuramente avrai visto sui social qualche accenno di polemica per il fatto che a Trapani Capoluogo gli eventi non ne siano stati programmati se si eccettuano ovviamente Luglio Musica della Trapanese e due o tre rassegne letterarie. Allora, Trapani intanto storicamente, se ci ricordiamo storicamente, non ha avuto mai un grande evento se non saltuari che sono stati dell'America's Cup, piuttosto che forse... Quando eravamo ragazzini dei concerti mi ricordo... Ma questi sono singoli, non so, il concerto non è un evento, un evento lo devi preparare, strutturare, su più giorni devi abbracciare varie branche dell'entertainment, il talk piuttosto che il concerto, il food... La città, l'obiettivante... Ma Trapani, oggettivamente, storicamente, a meno che tu non parli quelli sui geni, sono l'America's Cup, piuttosto che nel 2023, al momento... Le europeate. Le europeate, perché sono slittate a causa Covid, qua come mi pare in Lituania, mi pare forse, insomma, delle cose, ma non ha un evento, un evento strutturato, pluriennale. Questo è stato sempre un vuoto. Io non mi dispiacerebbe colmarlo, mi piacerebbe l'anno prossimo, ora mi sta balenando in mente così... Non si esporre più di tanto, eh? No, ma è un'idea, un'idea che così ci pensiamo da molto tempo, diciamo perché... Poi Trapani è la nostra città, noi sugli eventi siamo abbastanza strutturati, li seguiamo quasi tutti, o quantomeno quelli più importanti, e perché non ce l'ha? Un evento, io forse, legato al food, che è il nostro territorio, ricco di eccellenze, potrebbe essere, apripista della stagione estiva, potrebbe essere pensato. Mi piacerebbe confrontarmi con le istituzioni per... Però, ripeto, storicamente è davvero un problema, è quello che vi sono, ci sono... Le polemiche non mi sono sfuggite, soprattutto riguardante l'enteluglio musicale, insomma, di questi giorni. Poi magari altri in generale che non ci sono eventi. Sicuramente, per quanto riguarda l'enteluglio musicale, forse una sintesi sarebbe, fra le varie esigenze, sarebbe la migliore soluzione. Questo in generale... Sedendosi e confrontandosi. Tra l'altro, non sono un esperto, non mi sembra difficilissima da trovarla, se c'è la buona volontà da partire. Come era stata trovata magari negli anni passi. Sì, magari diversa, non lo so. Senti, a proposito dei eventi, due anni che, non per causa nostra, certamente, siamo ancora nel pieno della pandemia, da Covid, salta la processione dei misteri. Noi l'anno scorso abbiamo mandato quella dell'anno prima, quest'anno ci siamo, tra virgolette, inventati, il meglio, the best of, dal 94, credo, al 2000. Sì, quasi 30 anni. Sì, quasi 30 anni di uscita ed entrata dei sacri gruppi dei misteri. Anche questo, insomma, grazie al nostro archivio storico. Beh, l'archivio storico è un valore aggiunto per un gruppo di totale. Ma sai che ho ricevuto un sacco di apprezzamenti per questa rivisitazione dell'entrata e delle uscite? Beh, era chiaro, l'anno prima, ti ricordi che il lockdown era giunto proprio da un giorno all'altro. Quindi, la cosa più semplice e più immediata da poter fare era rimandare quella dell'anno prima, insomma, in un tempo di lockdown così deciso. E quest'anno, in vista del fatto che non si potesse riproporre, è chiaro che rimandare quella di nuovo il 2019 sarebbe stato un po' di corto respiro. Abbiamo pensato di fare una rivisitazione pluriannale che almeno, penso, possa mettere più amarcorde, più passione da parte... In questo mese la riprogrammiamo, no? Sì, sicuramente. Noi, come tu sai, cerchiamo in questo periodo, queste due settimane a Cavallo di Ferragosto sostanzialmente, riproponiamo, diciamo, il meglio di, diciamo, di tutto l'anno. È una cosa, una scelta editoriale semplice, qualcosa di più leggero. Magari la gente vuole rivedere dei bei momenti, magari tanti parenti che arrivano da fuori, seppur oggi rispetto a prima che era una richiesta continua, perché fino a qualche anno fa ce lo chiedevano, ah, l'ho riprogrammato i misteri perché non c'era il web e quindi non lo potevi vedere. Oggi arrivano bene, però credo che sia sempre una programmazione leggera. Del resto la RAI lo fa pure in piccolo, con le teche degli anni passati. È normale che tu magari in un momento più di leggerezza, di spensieratezza, che fisiologicamente le ferie ferragostane portano, è chiaro che magari vuoi rivedere qualcosa che ti fa sorridere e di bello, invece di magari un approfondimento politico, o peggio ancora, insomma, delle cattive notizie, in un periodo dove magari uno le vuole mettere di lato, le cattive notizie. In tutto questo, Telesudu, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, si è dotata delle strumentazioni moderne per andare sempre più in maniera incisiva sul web, intanto, e poi con l'avvento delle novità per quanto riguarda il digitale terrestre. Guarda, noi siamo, l'abbiamo detto a suo tempo, siamo passati primi in assoluto in Sicilia in full HD, nel ottobre del 2018, mi pare, non mi ricordo tanto. Quindi diciamo che già è stato uno sforzo importantissimo, a parte del gruppo editoriale, quello di dotarsi della nuova tecnologia che è ovviamente indispensabile per vedere sempre sul digitale terrestre una qualità adeguata ai tempi, ma allo stesso tempo che poi possa far sì di trasmettere sulle altre piattaforme un'ottima qualità audio-video, perché il web comunque trasforma quello che tu registri in bassa frequenza. Se io ho una telecamera del 15-18 è normale che il web altrettanto riprodurrà un segnale brutto. Quindi è chiaro che è sinergico, è chiaro che il nostro gruppo editoriale, il core business è e rimane al momento il digitale terrestre. Ci ho detto, non bisogna trascurare le altre piattaforme, social o del mondo web, che sono appunto il nostro sito, il canale YouTube. Ma secondo te questo passaggio, questa modifica ulteriore nella qualità del segnale, non decisa da noi ma per disposizione ministeriale, produrrà, tra virgolette, dei danni o basterà che la gente si adegui come già molti stanno facendo? Allora, non so che intendi tu per danni a chi? Al telespettatore o all'editoria? Beh, se il telespettatore non ci guarda, noi perdiamo tra virgolette aspetti. No, allora io, tu stai parlando di un ulteriore passaggio che al momento è preventivato dal Ministero del Sviluppo Comico il 22 giugno del 2022. È una tecnologia DVB-T2 che è molto simile a quella che oggi fruiamo da casa, ma come abbiamo detto più volte, già ora a settembre ci sarà un passaggio che le vecchie televisioni... Ma questo è un problema di tutti. Io avevo una persona amica l'altro giorno mi ha detto che da quando voi avete smesso l'SD e siete tutte e due in HD io nei quattro televisori di casa non vedo più niente. E ho chiesto alla prima domanda ma sono televisori vecchi? No, sono tutto quello di soggiorno a quattro anni. Uno di quattro anni probabilmente essendo in produzione già da un paio, almeno due o tre è chiaro che già è vecchio per la tecnologia. Sì, però i decoder si trovano, si prendono gratis. No, non si prendono gratis. In alcuni casi si prendono gratis. No, c'è una normativa particolare che tra l'altro è cambiata. Prima era l'ISE fino a 20.000 euro ti davano, non tutti, c'è chi ha di più di 20.000 euro. Non ho i datisti, ma non credo che sia la stragrande maggioranza pubblica. Una buona fetta, probabilmente meno agiata come è giusto che sia. Ma ora è cambiata la normativa, non è più questa. La normativa è cambiata, credo mi è arrivata la circolare, non l'ho letta. Credo che sia erga omnes però gli devi portare il mezzo non è più quella là. Fino a pochi giorni fa era l'ISE di bonus statale fino a 20.000 euro di reddito di ISE, anzi per meglio dire ed era 50 euro di bonus. Ora è cambiata. Credo che sia erga omnes per un tot di euro. Comunque è un aiuto, certamente statale ma ripeto, qui tutti quanti ci dobbiamo adeguare se non da settembre cioè non Telesud qualsiasi televisore non potrai più vederlo perché ancora ad oggi c'è qualcuno soprattutto i grandi gruppi editoriali che fanno la doppia programmazione SD piuttosto che HD da settembre l'SD non ci sarà più quindi non si potrà più vedere noi l'abbiamo fatto anche per questo in questo periodo dove il discorso gli ascolti sono minori come dire cercate di correre un po' tutti ad adeguarvi perché tra l'altro avrete un problema ripeto non con Telesud ma con il digitale del resto. Ma al di là della questione tecnica come sta cambiando il mondo dell'informazione televisiva Presidente Marino? Ovviamente è un mio punto di vista credo che l'informazione della digitale terrestre e della televisione sia molto differente soprattutto fra livello locale e livello nazionale a livello locale tu devi quanto più forgiarti cimentarti seguire gli appuntamenti del territorio che siano essi amministrativi che siano essi ludici come eventi che siano essi sportivi è quella che fa la differenza rispetto alla televisione nazionale che comunque rimane generalista una televisione locale devi seguire gli appuntamenti e la gente ti segue perché a mio avviso ma credo che l'è un ultimo per noi con i dati di Demopolis ci hanno ancora una volta gratificato di questi numeri forse poco sorprendenti per chi ha il polso della situazione ma certamente importanti per chi invece segue il web il web fisiologicamente un 5 pollici tu puoi vedere un minuto e mezzo due minuti di notizia o di spezzone la processione dei misteri a meno che non sei a Bolzano e quindi te la devi vedere per forza così ma se tu sei a casa accendi TeleSud perché comunque c'è il tuo bel televisore ti alzi ti muovi lo guardi è un 50 pollici ormai anche se noi appunto siamo assolutamente adeguati attraverso gli smart tv tu vai sul nostro sito e ti guardi in diretta ma è un servizio per chi diciamo fisiologicamente non raggiunge il digitale terrestre quindi sei l'immigrato in Germania e quindi ti vedi il telefonino perché così oddio non è neanche detto noi sappiamo che siamo seguiti dall'estero perché con il politico ma arrivano dati importantissimi che poi tra l'altro dal telefonino si fa per dire che però anche questo aspetto credo soprattutto alle nostre parti è davvero limitatissimo in teoria lo streaming tu lo puoi trasferire nella televisione di casa ma insomma credo che siano dubbi io non lo so fare per esempio i miei genitori men che meno non credo che la stragrande non fai test ma io non io credo invece di essere esattamente io quello che faccio testa che sono io lo so fare per esempio io lo so fare ma io sono pronto scommettere che se noi usciamo di qua andiamo in un bar credo che 28 persone su 30 credo che siano come a me però insomma e non credo neanche che sia il futuro non credo neanche che sia anche per un problema molto semplice il nostro capotecnico che ha un'esperienza familiare in Germania dove la tecnologia e il digitale è davvero a livello infrastrutturale seria noi siamo un paese ancora retratissimo dal punto di vista delle infrastrutture digitali quindi quando parliamo fino a 20 mega ci danno la banda sono sciocchezze perché noi appena abbiamo un intasamento nella zona di riferimento dove ci sono 50 persone che si vedono Netflix altre 50 che sono collegate al telefonino e vedono una cosa banda già non ce n'è più e incomincia la solita rotella a girare io me lo ricordo spessissimo soprattutto con le partite dal Trapani Calcio con Dazon era streaming e ogni partita c'era la rotella che girava perché la banda non a proposito di partite quest'anno purtroppo abbiamo dovuto scegliere di non mandare in onda una trasmissione sportiva beh ci sono state una serie di cofattori lo possiamo dire non essendo un fatto privato visto che lo sanno tutti abbiamo obbligato a iniziare dalla nostra Stefania Renda che ha avuto un lieto evento e quindi ha voluto giustamente dedicarsi di più agli aspetti familiari abbiamo colto al balzo abbiamo colto al balzo il colto al balzo abbiamo dovuto optare anche causa covid a una restrizione anche lavorativa e in più sappiamo che ovviamente il Trapani Calcio è comunque il traino principale dello sport poi c'era un altro problema che spesso e volentieri il lunedì sono tutto all'inizio nei primi mesi a che c'erano due o tre partite a che non c'era nessuno perché saltavano a causa covid e se tu non hai di che parlare come fai a dare una programmazione settimanale in tutti gli sport dalla handball al calcio alla canessa c'era un positivo e saltavano come fai a fare di che parli ti parli addosso quindi diciamo questa serie di cofattori hanno fatto sì che abbiamo pensato di post-produrlo seppur poi l'ottimo Federico Tarantino nella redazione seguiva puntualmente assolutamente senti pensiamo pensiamo di sì ora aspettiamo il bando sui diritti pensiamo noi di sì ovviamente di sicuro lo seguiremo come e a che livello decideremo anche in base alle normative di Lega che ti devo dire io ho seguito con poca passione per ovvi motivi anche per un po' di amarezza per la mia trascorso all'interno dei quadri dirigenziali quindi amareggiato però mi ha un po' mi ha un po' non voglio dire disgustato però mi ha un po' lasciato ulteriore amare in bocca tutti questi mesi e quello e quell'altro e Minore e Faggiano e Pizzarote e Bulgarella e tutto e poi non si capisce se le carte Mazzarra aveva inviate non le aveva inviate ma io non so di sicuro poca chiarezza chi doveva fare cosa non è che non è che si è capito tra l'altro non è che stavamo parlando di miliardi di dollari cioè i numeri li abbiamo visto dove che ballavano 200.000 180 300 insomma se tu per pure questi numeri non hai chiarezza cioè o qualcuno mi nasconde qualcosa oppure su chiacchia credo però e i social questo l'hanno detto in tutte le salse che diciamo l'imprenditoria trapanese non abbia fatto una gran figura perché onestamente e prima un gruppo che non si capisce dove è questo gruppo del comitato che aveva squagliavo come era ovvio io l'ho scritto scondato scusate due poi Faggiano che doveva coagulare mi pare una certa gruppo due tre persone tramite Marsal Mizzarotti poi già Bulgarella doveva essere il frontman di Faggiano in questa operazione e squagliavo con il Stauge dopodiché minore non si capisce chi è chi aveva diecio quale io ho visto cose surreali mandate alla stampa di interviste mandate felicissimo che lui dopo Zuckerberg Jeff Bezos De Picciotto invece che è stata è stata una sconfitta per la città De Picciotto credo e lì mi dispiace dirlo la grossa fra virgolette colpa sono scelte la grossa colpa è la vuta alla proprietà del Dattilo è stato perso un treno importantissimo a suo tempo lui era pronto a comprare a ottobre e quello secondo me sia per loro ma per carità ognuno che per la città è stato preso un treno importantissimo conosciamo tutti la solidarietà di De Picciotto non è un parvenuto è una persona con una storia imprenditoriale con degli interessi concreti sul territorio legittimi e sarebbe stato diciamo un treno da non perdere è chiaro che poi quando la sopravvenire gli eventi a iniziare dalla incompatibilità delle proprietà a livello professionistico è quello è chiaro che non ti dico che prende la palla al balzo ma è normale che dice ma io che me la tengo le canazioni direttanti quando vuole l'anno prossimo un problema fa il trapano in Lecce credo che De Picciotto sarebbe stato davvero insomma una certezza per il territorio insomma perché ripeto era uno lì concreto pronto a comprare con i soldi come chiudiamo questo spazio nostro come chiudiamo niente magari pensando a quello che possiamo fare l'anno prossimo a vedere che cosa si può io ogni volta che ti ospita ogni volta che facciamo i sunti ti strappo sempre una promessa obiettivamente poi le mantiene quindi l'anno scorso le idee e la cassa gli ho chiesto la nuova scenografia per questa trasmissione obiettivamente di tutto rispetto mi sento di dire insomma piace ora ti chiedo ma la rinnoviamo la scenografia di De Politico? De Politico sicuramente ok sicuramente perché ha alla sua età seppur non abbia decenni alla sua età ha terminato la sua spinta propulsiva soprattutto nella vicitura verso le elezioni essendo diventata molto altro e molto di più credo che anche le tecnologie e anche le abitudini dettate dal covid debbano far pensare ad altro e quindi è diventata di gran lunga una delle trasmissioni più apprezzate del panorama siciliano vorrei aggiungere non soltanto di questo territorio credo certamente che non mi sobercare di troppe responsabilità però dai no no dobbiamo cambiarla come dobbiamo rifletterci ma per cambiarla sicuramente la scenografia la cambieremo ci sarà da lavorare noi le politiche lo prendiamo la prima settimana di ottobre ci sarà da lavorare essendoci ad agosto di mezzo ma io insomma per quella i step poi sai sono due o sempre quando inizia la programmazione ottobre o a gennaio sono quelli i step c'è poco da fare telegiornale vorrei pure cambiare telegiornale anche lì abbiamo bisogno di allevare è un po' sempre un luogo più istituzionale dove conta più la notizia che la scenografia certo però però qualcosa si può inventare dei politici credo che sia più stringente cioè il telegiornale lo cambia ora lo cambia a gennaio non cambia nulla perché comunque sempre le notizie contano le notizie contano e la qualità di quelle notizie la qualità video di quelle immagini più che la scenografia 10 se hai un monitor romeno ci sta come tutte le cose un restyling viene ad operare però non c'è dubbio che però è chiaro che poi l'anno prossimo sarà un anno è chiaro anche particolare perché ancora sembra le notizie a iniziare a causa covid dove non penso green pass meno green pass che ce ne libereremo e poi l'anno prossimo l'estate vabbè riprenderà gli eventi con Cuscus Fest in maniera contingentata perché ormai l'edizione sarà assa minore e poi l'anno prossimo penso che uno degli aspetti fondamentali sarà la politica perché ci aspetta andiamo da Alcamo e Caratafimi in ottobre fino all'anno prossimo ma soprattutto mi sento di dirte in misi di scemi che sarà la prima volta dove si va a votare si dovrebbe votare nella finestra primaverile primaverile in queste amministrazioni per poi in autunno esserci invece l'appuntamento con le regioni andiamo diciamo da questo autunno con Alcamo e Caratafimi appunto dalle nostre il 10 di ottobre abbiamo due anni di lunga cavalcata poi addirittura l'anno dopo c'è pure Trapani nazionali Trapani al 2022 già c'è tanta roba va bene Presidente buona estate buona estate a te e a voi soprattutto spettatori che ci avete seguito con sicuramente assiduità e penso anche forse un po' di affetto tutto l'anno grazie noi ci rivediamo lo avete capito questa è l'ultima trasmissione prima della pausa poche settimane di assenza almeno dalle registrazioni e dalle dirette noi ci rivediamo a settembre sempre con Respubblica e con tutto il resto delle altre trasmissioni ma ve lo ribadisco c'è un palinzesto di tutto rispetto noi non facciamo mancare la nostra presenza la nostra compagnia soprattutto le nostre produzioni per cui seguiteci le notizie su www.telesudweb.it ma intanto per questa settimana è il telegiornale alle 13.45 continuate a vederlo arrivederci